Ieri mi hai aspettato al ristorante, a lungo. Ma prima, quella stessa mattina, avevo dimenticato una cosa in bagno. Sono tornato indietro a prenderla. E il bagno aveva lo stesso odore, esattamente lo stesso odore, di quando mio nonno si faceva la doccia. Era come se lì ci fosse stato mio nonno. Ma lui non c'era. C'ero solo io. Solo io e l'odore di un anziano. Non so, non so quando sono invecchiato. Forse quella mattina, forse molte, molte mattine fa. Forse se avessi dimenticato qualcosa in bagno prima, me ne sarei già accorto. Signore, vuole sedersi? No, no. La vita andava avanti e mi cullava con i suoi movimenti. Tondolavo avanti e indietro, mentre mi gettava a destra, mi gettava a sinistra, e poi, prima che me ne rendessi conto. Nessuno compra il biglietto della lotteria di ieri, Ira. Sono passato al ristorante mentre mi aspettavi. Tu eri lì, a frugare nella tua borsetta, bevendo tutta quell'acqua. Volevo venire a dirti tutto questo di persona, ma ti ho solo osservata mentre aspettavi. eri bellissima. Tu sei giovane. Puoi sognare. E per un po' mi hai fatto entrare nei tuoi sogni. E per questo ti ringrazio. che ti ringrazio è diversa辛ilà. Tutta a fare un ottobre di ieri,